Pronti, partiti! E' in vantaggio l'Azzialità davanti a Murano Crosspins Mister McMahon Capiniera Don Giustino Lissia Nossaspett Desenheim Dopo 300 metri di corsa passa Murano davanti all'Azzialità Crosspins Mister McMahon Lissian Capiniera Nossaspett Desenheim All'inizio della curva prosegue in vantaggio Murano davanti all'Azzialità Crosspins Mister McMahon Lissian Capiniera Nossaspett Don Giustino Ed Esenheim poco prima dell'ingresso in vantaggio Murano davanti all'Azzialità Crosspins E Mister McMahon I cavalli entrano in dirittura Con Murano in leggero vantaggio lungo la corda Attaccata all'esterno da Mister McMahon Lissialità Lissian e Capiniera Seguono Crosspins Don Giustino Nossaspett a centropista Passa Capiniera davanti a Don Giustino E Nossaspett lungo la corda In leggero vantaggio Nossaspett lungo la corda Davanti a Don Giustino, Lissian e Capiniera Il famoso cavallo di Piero Ancora una volta al traguardo Vale a dire Nossaspett Che con scatto probante con in sella El Reras Va a chiudere questa partita E noi allora restituiamo di corsa da linea allo studio Bella affermazione del numero uno Nossaspett che porta a casa la vittoria Ce l'aveva segnalato Piero Celli in fase di presentazione Ricca la quota 9,86 Che bella quota Veramente Secondo posto per il numero 3 Don Giustino Terzo il numero 5 Lissian Quindi per i numeri 1, 3, 5 Eccoli qua Che transitano sul traguardo E sono i cavalli della sesta corsa